Stanno riflettendo i partiti di maggioranza su questo, c'è proprio in commissione un emendamento della Lega, vedremo un po' quale sarà il punto di caduta. Forza Italia non è favorevole al terzo mandato, la razza del terzo mandato è la concentrazione di poteri per troppo tempo. Il problema è che siccome sono Veneta e si parla di Zaia, Zaia sicuramente è un buon governatore, è riconosciuto a livello nazionale, purtroppo non stiamo parlando di lui, stiamo parlando di una regola di carattere generale, per cui questo è il punto.